Entro fine febbraio le sezioni delle scuole d'infanzia dell'Istituto Falcone di Sassano e dell'Istituto Salaconsina Viscigliete saranno dotate di apparecchiature che garantiranno una continua sanificazione degli ambienti. Ad annunciarlo Patrizia Pagano, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Falcone di Sassano, che comprende anche le scuole di Monte San Giacomo, e dell'Istituto Comprensivo Salaconsina Viscigliete, di cui fanno parte anche le scuole di Atena Lucana. Una importante e innovativa soluzione che consentirà ai bambini che frequentano le scuole d'infanzia e che non hanno la possibilità di difendersi da aggressioni virali e batteriche, dato che in particolare per la diffusione del Covid non sono coperti da vaccinazione, potranno frequentare la scuola in tutta sicurezza. La dirigente scolastica, per garantire una maggiore sicurezza nell'espletamento dell'attività di didattica in presenza per tutti i bambini che frequentano le classi delle scuole dalla stessa diretta, ha deciso di investire i fondi messi a disposizione delle singole scuole dal Governo per fronteggiare l'emergenza in apparecchiature di ultima generazione che consentono la sanificazione degli ambienti in maniera efficace e continuativa, in modo tale da garantire ai piccoli di poter trascorrere le ore di scuola in un ambiente sicuro e costantemente sanificato. 19 in totale dispositivi acquistati dai due istituti scolastici, la cui consegna è prevista per fine febbraio, di cui 11 destinati alle sezioni che fanno parte dell'istituto Sala Consilina Viscigliete e 8 per l'istituto Falcone di Sassano. L'aria pulita non è mai stata così importante, dichiara la dirigente scolastica Patrizia Pagano. Ecco perché abbiamo scelto di utilizzare parte dei fondi ministeriali destinati alla sicurezza Covid-19 per dotare tutte le sezioni della scuola di infanzia dell'istituto comprensivo Falcone di Sassano e dell'istituto comprensivo Sala Consilina Viscigliete di dispositivi per la disinfezione dell'aria. La tecnologia impiegata sulle apparecchiature in arrivo presso le scuole spiega è in grado di distruggere oltre il 99,97% di batteri e virus presenti nell'aria garantendo un processo di sanificazione continuo. Gli alunni della scuola dell'infanzia entro 5 anni, ricorda in conclusione, appartengono alla categoria di fascia d'età più delicata e i dispositivi di cui presto le sezioni saranno dotate continueranno a costituire, alla auspicata fine della situazione pandemica, un utile presidio contro infezioni batteriche e virali.